Ci siamo, siamo pronti per il rush finale della Transat Quebec Saint-Malo, in cui tutto davvero può succedere. Il Class 40 Ibsa, al rilevamento delle 10.30 di domenica 14 luglio, si trova a 278 miglia dall'arrivo e ha ridotto a sole 13 miglia il distacco con i primi, con un lavoro certosino e di grande dettaglio. Ora Alberto Bona, Pablo Santurde dell'Arco e Luca Rosetti sono al dunque, verso il passaggio dell'isola di Wesson, la psicologica porta d'ingresso della Manica, a lato Costa Bretone. Noi intanto siamo già arrivati a Saint-Malo e camminando lungo i bastioni della cittadina Corsara ci sembra di essere la copia moderna delle antiche famiglie dei navigatori, quelli senza tracking, che da qui attendevano per settimane e settimane nell'incertezza il ritorno dei navigatori, correndo lungo le fortificazioni e fino al porto. A lui forse potremmo chiedere qualche informazione. E Jacques Cartier, l'esploratore, che a fine Cinquecento arrivò in Canada. La rotta della Transat Quebec-Samalot è dedicata alle sue esplorazioni e al coraggio di affrontare a vela le alte latitudini. Da quassù, dai bastioni più alti della città Corsara, quella in cui proprio Jacques Cartier, un navigatore, è sepolto con tutti gli onori nella cattedrale, c'è la sintesi della Bretagna. Maree, correnti, fari, medie, scoglie e isolotti, l'ultimo atto della regata che attende il team del Class 40 Ipsa prima di un arrivo che è già epico. Gli approdi sono pronti e noi non vediamo l'ora di abbracciarli e vederli dopo questa dura esperienza di mare. Una regata molto diversa dall'atteso, drammatica per certi versi, ma certamente di grande valore e non solo sportivo.